Sette incontri con esponenti di rilievo che hanno affrontato grandi temi di attualità tra le preziose teche del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale. Bilancio positivo per il Magna Grecia Awards Fest, racconti d'inverno, l'evento itinerante del Magna Grecia Awards, promosso e sostenuto dall'assessorato alla cultura di Ostuni, in programma per la prima volta nella città bianca. Il bilancio è molto positivo, Ostuni è stata impreziosita da molte persone, molti ospiti illustri che hanno trattato diversi argomenti, quale mafia, banche, fine vita, le donne stasera, la Brexit. Quindi abbiamo impreziosito questa città già preziosa di per sé, di persone importanti che hanno dato lustro e hanno parlato di tematiche quotidiane partendo dai libri da loro scritti. La particolarità di questi racconti d'inverno, di questo Magna Grecia Awards Fest, è che sono stati i protagonisti, oltre i vari personaggi illustri che ho detto prima, proprio i ragazzi che con delle domande spontanee durante la conversazione, durante il talk, hanno chiesto di parlare di argomenti che probabilmente persone più grandi non avrebbero toccato. A chiudere la rassegna l'incontro con la giornalista Tiziana Ferrario, che nelle pagine del suo ultimo libro, Orgoglio e pregiudizi, Il risveglio delle donne ai tempi di Trump, racconta il coraggio delle donne a partire dalle loro storie, dagli incontri e dalle battaglie contro le discriminazioni. Io ho scelto queste storie proprio perché spero che siano di ispirazione anche per le donne italiane, che trovino un po' il coraggio di farsi valere. Forse c'è un po' bisogno di ricominciare anche a chiedere un po' più di diritti, ad alzare un po' di più la voce. Io ho guardato quello che sta succedendo in America, c'è un grande fermento e stiamo vedendo che sta arrivando anche qua. Il caso delle molestie sessuali è un esempio. Voglia di parità interpretata anche in una performance speciale dei ragazzi dell'Officina del Sole, la compagnia teatrale del liceo classico di Ostuni, ai quali è stato assegnato il premio speciale Magna Grecia Awards.